Un'anticipazione sulla giunta, qualche nome che intanto si può fare? No, ancora no perché mi voglio rilassare un giorno o due e poi in settimana farò qualche nome, dai, in settimana ce la faremo. Resta ancora il più stretto riservo a Cortona dopo la netta affermazione politica di Meoni sulla giunta che andrà a governare la città etrusca. La sua riconferma così netta però e con la sola forza delle sue liste civiche, gli permette oggi di avere campo libero come mai fino ad ora. Niente spartizioni di poltrone nella sua prossima giunta in proporzione con i partiti di centrodestra che fino a pochi mesi fa erano stati i suoi alleati e dunque compito più semplice per l'organizzazione della squadra. In attesa dell'ufficialità proviamo a fare qualche ipotesi. Il campione di preferenze Paolo Rossi dall'alto delle sue 690 attestazioni potrebbe assumere il ruolo di vice sindaco e potrebbe anche portare avanti tutte le sue deleghe su cui ha lavorato fino ad ora. L'altro nome sicuro in giunta è quello di Silvia Spensierati, anche lei fuori classe in termini di voti conquistati pari a 577. Un altro nome su cui Meoni potrebbe non avere dubbi è quello di Francesco Attesti, che pur cedendo il passo di vice sindaco a Rossi potrebbe restare nel ruolo di assessore. Veniamo ora ai nuovi innesti in giunta. L'ex consigliere a leghista Lucia Lupetti, che ha scelto di abbandonare il partito per seguire Meoni nell'avventura di futuro per Cortona, potrebbe essere il nuovo assessore. Altro nome che si profilerebbe in giunta è quello di Francesco Fanicchi, che ha già svolto il ruolo di consigliere comunale e capogruppo nella giunta precedente. Non si esclude il ruolo di presidente del consiglio comunale per Maria Isolina Forconi, braccio destro di Meoni anche nel consiglio precedente, dove aveva già assunto la carica.